Benvenuti a Firenze Spettacolo, il mensile che vi porta alla scoperta dei migliori eventi a Firenze in Toscana. Si entra nel vivo con le feste natalizie e quale occasione migliore per andare al cinema con tutta la famiglia. Da mercoledì 18 esce in tutte le sale Star Wars, l'episodio finale della grande saga di fantascienza con un grande evento al cinema Odeon da mercoledì 18. Giovedì 19 invece è tanto atteso l'altro film di dicembre Pinocchio di Matteo Gallone con Roberto Benigni e Massimo Ceccherini, la grande favola di Collodi messa un'altra volta sul grande schermo, quindi due grandi appuntamenti al cinema per tutta la famiglia. Mentre ai giardini della fortezza da basso è arrivato il Florence Ice Village, la pista di ghiaccio più lunga d'Europa, quindi un altro appuntamento da non perdere per le festività per andare con tutta la famiglia a pattinare sul ghiaccio a fare altre divertenti attività. Mentre per gli indecisi di Natale per voi sulle nostre pagine abbiamo stilato una mappa dei tutti i menu delle feste, dai grandi hotel della città ai ristoranti stellati e non, potrete scegliere e sbizzarrirvi e scegliere appunto il vostro menu delle feste preferito. E la risposta all'ultima domanda cosa fai a Capodanno è sempre sulle nostre pagine, infatti su Firenze Spettacolo vi raccontiamo il Capodanno Fiorentino che come sappiamo non sarà più con un grande concerto unico al piazzale Michelangelo ma in tanti concerti in tutte le piazze principali della città. E allora per il vostro Natale, per le vostre feste, per il vostro Capodanno non vi resta che prendere Firenze Spettacolo di dicembre in tutte le edicole e librerie o sul nostro sito www.firenzespettacolo.it. Allora buon Natale e buon anno nuovo da Firenze Spettacolo.